dai via avviamo sto pandoro nel tempio di pandora problemi di ritorno audio da me non sento niente adesso si che inquadratura un po strana questa dispersiva del polo nel giro di un minuto 4 5 cazzo in una pira tra l'altro c'è anche uno scrigno di energia e laggiù secondo me un trappolozzo nel senso che ti avvicini allo scrigno escono fuori tutte eccolo adesso è vita qui non c'è manco l'r2 che ti piace tanto per poter aprire questa grata secondo me si devi stare al nord ovest si oh yes la telecamera comunque fa gioire si proprio quelle non si sfondano quella niente ah ok ecco la tua via dov'è che forza non mi spiega te la sei cavata la grande dai così pensi di poter conquistare il tempio degli dèi vero? la voce suave eh nonostante l'aspetto non c'è mai riuscito nessuno prima o poi le arpie mi riporteranno quello che rimarrà di te perché lo bruci le arpie finché nessun mortale ottenga i suoi poteri tuttavia ogni anno apro i cancelli a sempre più soldati collocando sempre più corpi su queste bire se fossi in te me ne andrei ma vedo che sei desisterei va bene faro spicca caccia le piccioni adesso gli vanno subito a cagare sull'automobile la forza per scampare ai pericoli che ti aspettano buona fortuna spartano grattati le palle giorno fuorre perché buona fortuna insomma si dice mai si dice mai sei fullato no 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 ti hanno aperto il cancello va bene ecco e se fai la fuga non te la fa fare e va ah c'è pure una che mozzica lì maligno questi poi non si pietrificano mai oh oh mela come un fabbro sono belli resistenti forse sono più deboli a un'altra magia come non c'è più niente ah non è abbastanza no c'era uno sopra ah però uno è andato se gli fai il fatality si dai l'ha avuta diciamo gelò un porco kratos ti conviene appiare l'energia e devi fare tutto il giro se scende in giù tutta a sinistra no boom vale come otto colpi quindi 5 adesso boom ma secondo me ci puoi scappare però eh attendo a prendere quel baule quello che era sopra vicino alla pira da laggiù non lo so eh in giù eh lì ah è chiuso eh va bene affronta il tuo destino mazzo c'è chi ci dovrebbe essere un altro adesso vorrei di anche se tre sarebbero sufficienti eh ma questo non avresti un altro no ma certo via 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 fanno rumore dell'elicottero ti sei reso pronto? si vabbè ma non muore mai cioè via boom è solo è finito di dire? si circa 10 anni fa via non muore comunque e non muore eh io si però no no bevi una fiasca estus che ne so eccolo e non potevi sbagliare perché saresti proprio crepato fanculo così quasi potresti far il giro e prendere lo scrigno no vabbè no ma no ci sarà via bella eh sta scalata adesso ci sarà qualcosa anche qui lo stico questi no? si si eccolo ci fosse un altro ah ce n'è uno sarà occhio di gorgone si allora perché l'abbiamo perché l'abbiamo lasciato uno indietro penso da qualche parte ma io ci do non so se hai notato se fermi la liquaratura sulla leva che hai tirato c'è la testa di un caprune caprune lo vedi? ecco un caprune 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 oh 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 nooo ma questi sono cazzuti è già severe però tu c'hai quasi lì la piana eh ah vedi fanno la puoi fa si fa sto spezzatino l'arcieri l'arcieri per carità sono odiosi rispondono eh poi tanto per tirarti sul morale non è morto ce n'è rimasto un'altra sì sì uh questi mi sa che li devi saltare eccolo oh ho fatto sì il libro il libro potrebbe ecco il libro riporta questo tempio fu eretto in onore di Zeus per ordinare il somma e potente Zeus sono l'eroe più coraggioso risolverà gli enigmi ecco qui sono cazzi tuoi pieno di enigmi ah dovete te devi girare la ruota eh 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 devi girare la ruota gli anelli di pandora ci fermiamo qua dai dici sinche